che notizia che ho scoperto in pratica era ricominciata qualche settimana fa l'undicesima se non sbaglio stagione di modern family che è una delle serie tv che preferisco in assoluto per quanto riguarda quel genere è la serie che di solito io guardo il sabato a pranzo è proprio la serie del pranzo perché è una serie leggera non lunghissima che te la porti in avanti così mentre mangi in allegria con quelle battute il mio personaggio preferito manco a Dill e Phil Dunphy insomma credo che sia il preferito della parte di la maggior parte soprattutto dei mariti e niente ho scoperto due cose le volevo condividere con voi ma sicuramente se siete fan della serie le avrete sapute prima di me però se qualcuno si sta domandando come me che fino a ieri girava come un coglione lì su un audio tv così tanto quando cazzo è finita cioè cercavo anche col trova niente sparita che poi questa è una cosa che non capisco che è l'unica una delle pochissime serie che se per caso una settimana ti dimentichi di guarda te le tolgono le artesie di solito accumulano 4 5 puntate e poi dopo inizio a togliere piano piano questa invece no te danno due puntate a settimana se non fai tempo a guardare le portano via ora siccome stava in ultimi episodi non so se ci avete presente la audio tv come è strutturata stava in ultimi episodi e quindi andavo a cercare solitamente la trovavo sempre in ultimi episodi tra quelle più in alto perché comunque in questo periodo poi non è che sto vedendo non c'è stata tutta questa grande scelta oggettivamente in questo periodo per cui quando ricominciano poi delle serie delle serie che tu segui che ti appassionano sei contento perché almeno c'ho qualche cazzo da vedermi soprattutto in questo periodo insomma dove siamo vincolati alla quarantena e era troppo più stavo in ansia proprio ho detto vabbè fammi andare a vedere se magari l'hanno spostata nelle nella zona quella on demand quelle fisse insomma come si chiama dove ci stanno tutti gli archivi a parte vabbè archivi non ci sta tu devo vedere le puntate vecchie non ti puoi vedere l'hanno messa sai dove su amerone l'hanno messa su amazon però soltanto la prima stagione mi pare che già se lo mai rivedete è più pian corpo perché praticamente gente che è cresciuta già che è invecchiato clamorosamente paurosamente non c'è la luce tipo pare un vecchio di centale ha fatto proprio un crollo clamoroso so quanto saranno passati più di dieci anni forse comunque c'è gente che Claire è rimasta uguale e qualcuno a parte chi è spiegato insomma chi è diventato un uomo e Jay ha avuto un crollo pazzesco e quindi non ho la trovavo dopo giorni di ricerche che poi bastava insomma essere un po' più lungiferanti nella ricerca su google ho scoperto che modern family è stata intanzi tutto che sta l'ultima stagione quindi l'undicesima sarà l'ultima stagione non ce ne saranno di successive e che poi niente è stata sospesa perché non è possibile eseguire i doppiaggi quindi giustamente adesso per motivi di pandemia eccetera non è possibile alcuni lavori non è possibile esercitarli e per cui è tutto fermo e vabbè quantomeno so perché poi a volte succede soprattutto Nautv lo fa spezzetta le serie a metà tipo non so se sono 20 puntate a 10 sparisce lo cazzo sta devi aspettare tipo 6 mesi che tornano le altre 10 puntate questo è un malvezzo che c'ha Nautv che è una cosa che detesto perché comunque viva dio se ogni tanto c'è stata una serie che dura un po' più di 6-7 puntate e dura magari 20 puntate quindi la gusti e te la porti avanti per un po' più di tempo invece no devono romper il cazzo spezzettare la meta e fatta aspettare altri 6 mesi chissà quanto devi aspettare per rivedere poi come finisce e quindi niente se non sbaglio mancano tipo 6 puntate la Fox ha sospeso appunto l'erogazione in mancanza dei doppiatori e quindi poi quando sarà possibile entriamo in fase 2 non so se qualche cosa si sbloccherà da questo punto di vista e ci finiremo di vedere questa undicesima ed ultima stagione niente vi voglio dare questa informativa nel caso qualcuno di voi come me si stesse domandando che cazzo definire aveva fatto Modern Family